Quando abbiamo cominciato a lavorare la calce, non avremmo mai potuto immaginare che quel momento sarebbe stato l'inizio di una storia giunta fino ad oggi, più di 300 anni dopo. La calce è vita. Prendi un sasso dalla terra, cuocilo col fuoco, rendilo plastico con l'acqua, lavoralo secondo volontà e riportalo allo stato solido grazie all'influsso dell'aria. Una metamorfosi della materia che cambia, si trasforma e si ricompone per tonare alla fine uguale a se stessa. I momenti difficili da superare e quelli lieti da celebrare ci hanno insegnato a guardare al presente come la radice del nostro futuro, a migliorare continuamente i nostri processi e a mettere alla prova le nostre convinzioni. Amiamo ciò che facciamo e amiamo ciò che circonda il nostro mondo. Non avremmo mai potuto crescere e guardare al domani se non avessimo allungato una mano verso la nostra terra. Il luogo in cui viviamo è l'unico in cui possiamo crescere e prosperare. Verso di essa avremo sempre un debito di riconoscenza. Grazie alle persone che ogni giorno con le loro idee e le loro energie, con i loro dubbi e con la loro voglia di costruire hanno creato la nostra grande famiglia. Questa è la nostra passione. Questa è Fassa Bortolo. Grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.